Benvenuti, io sono Maurizio Poli, educatore consulente finanziario. Parte il nuovo format Economicamente, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dal 5 di luglio, fino al 7 di agosto, poi repliche fino al 9 di settembre. Troveremo professori universitari, imprenditori, formatori, consulenti, tutti che ci accompagneranno durante questa estate nel percorso di educazione finanziaria. Vi aspetto qui per una bellissima estate con Economicamente.